Ma Gazziano, quali sono i settori e i titoli che potrebbero meglio performare nel corso del 2016? Lei ha una grande esperienza nel settore bursistico. Sì, nel settore bursistico sicuramente sì, non in quello astrologico, anche se un famoso economista, fra i migliori sicuramente che ha conosciuto la storia economica finanziaria, Gelbref, diceva proprio che le previsioni degli economisti servono a rendere più credibile la posizione e le previsioni degli astrologi. Battute a parte, sicuramente una società come quella di cui mi occupo delle strategie di investimento indipendente, come Soldi Expert e SCF, ha un approccio un po' diverso su quello che riguarda proprio il mondo delle previsioni, poiché non ci mentiamo a fare grandi previsioni, perché abbiamo imparato e credo che anche molti investitori se ne siano resi conto nel corso di questi ultimi lustri, che cercare di prevedere i mercati è qualcosa di molto difficile, ma invece secondo noi è molto più assennato e più proficuo cercare di capire dove vanno i mercati e dove vanno le tendenze. Già vedendo quel grafico poco fa, che faceva vedere l'andamento del listino italiano da inizio anno, secondo me già si colgono alcune tendenze che potrebbero essere anche le stesse e che continueranno nei prossimi mesi. E se noi vedevamo quell'indice, vediamo che da inizio anno Piazza Affari fa più di 17%, mentre l'indice Star fa più 37%. L'indice Star cosa ci dice? Sono le aziende ad alti requisiti, i pesi medio-massimi di Piazza Affari, società con una capitalizzazione importante, società nel settore industriale, della tecnologia, piuttosto che anche nel settore bancario, però che hanno delle caratteristiche di magari focalizzazione su mercati particolari, un elevato quota di export. E questo listino sta andando molto bene, tant'è vero che da inizio anno, oltre ad avere la maggiore performance, è molto vicino ai massimi da inizio anno. Piazza Star fa il 38% infatti. Ed è distante circa del 3% dai massimi, mentre invece se andiamo a prendere l'indice di Piazza Affari Generale e soprattutto l'indice bancario, del settore bancario, quello è da inizio anno circa 16-17%, ma è sotto dei massimi di luglio-agosto di circa il 16-17%. Quindi, secondo quello che si può vedere al momento delle tendenze del mercato, c'è una pattuglia di settori, di titoli, fra cui sicuramente a livello anche europeo, il settore food and beverage, quindi il settore in Italia rappresentato da aziende come Campari, il settore delle aziende molto forti sul digitale, penso a Jux, adesso Netta Porte, nel settore del lusso online e degli acquisti legati all'e-commerce. Penso anche a banche digitali, come possono essere Fineco, piuttosto che banche con grandi specializzazioni in nuovi settori, come Banca IFIS o società a livello tecnologico molto avanzate come Size Getters, che tra l'altro sono fra i titoli che da inizio settimana anche sono molto forti e che come società seguiamo da tempo anche nei nostri portafogli italiani. Società di questo tipo da seguire, o Brembo che recentemente ha fatto nuovi massimi, cioè società con delle caratteristiche molto particolari, perché cercare di andare a prevedere i settori, visto che qua non si prevede quello che poteva prevedere Draghi la scorsa settimana da un giorno all'altro, è molto difficile per un risparmiatore. Quindi secondo noi quello che vince e quello che forniamo come società è quello di fornire un approccio basato sull'andamento del mercato con degli strumenti metodologici che aiutano il risparmiatore a capire quando entrare ma soprattutto quando uscire, poiché cercare di fare investire, cercando di fondare le proprie decisioni su decisioni prese prima, è molto rischioso. Ecco, nominavamo poco fa realtà come quella anglosassone o quella americana. Nel mondo anglosassone la corretta distribuzione dei prodotti di risparmio viene considerata la stregua di un bene pubblico, proprio come la salute. Ma Salvatore Gazziano, anche in Italia i risparmiatori vengono tutelati in maniera così importante in modo che sia fornito loro il servizio più adeguato e meno costoso? No, direi di no. Sicuramente è stato giustamente citato la salute più volte e la salute finanziaria di una popolazione è molto importante. In Italia su questi aspetti purtroppo viviamo, nonostante abbiamo un articolo nella nostra Costituzione che è l'articolo 47, dove dice che tutela il risparmio, la vigila sul credito, fatti recenti, accaduti anche in queste settimane dove magari avranno modo di parlare come il salvataggio di banche dissestate e credo che stanno vedendo centinaia di migliaia di risparmiatori che rischiano di perdere anche tutti i soldi che hanno messo da parte e dimostrano che in Italia non c'è molto questa cultura e purtroppo anche la normativa non va nella direzione della trasparenza come in altre nazioni come in Inghilterra, dove già nel 2013 si è deciso di puntare tutto sulla consulenza indipendente e cercare di offrire un tipo di consulenza non basata sul conflitto di interesse. Addirittura in Inghilterra, per dar ragione a quello che ha detto Jonathan Figoli di professione finanza, stanno anche pensando alcuni tecnici del Ministero di spingere più o più in direzione del robot visoring proprio per cercare di permettere anche ai piccoli risparmiatori di avere una consulenza più adeguata e a costi più bassi. In Italia purtroppo vige il sistema delle lobby bancarie e vige purtroppo, oggi leggevo in questo fine settimana alcune dichiarazioni di Vegas, il presidente della Consob che diceva che i risparmiatori caduti, vittime delle obbligazioni subordinate sono investitori consapevoli e che sapevano i rischi che stavano correndo. Inviterei il presidente della Consob a leggere un libro di un ex presidente della SEC, che è qualcosa più importante della Consob l'autorità di controllo americana, che aveva scritto un libro che si intitolava il risparmiatore ingannato, dove ammetteva già dieci anni fa che i risparmiatori non basta mettere tre righe dentro un prospetto informativo di 150 pagine per informare dei rischi ma occorrerebbe fornire un'indicazione finanziaria e metterle in condizioni capestro nella prima pagina cosa che in Italia ancora di fatto sui prodotti finanziari non esiste. Abbiamo sentito prima come in ambito sanitario da Stefano Massaro tutelare la propria salute, preoccuparsi della propria salute sia ormai diventato un must, sia diventato un po' la parola d'ordine ma preoccuparsi dei propri risparmi è altrettanto importante perché bisogna sì stare bene ma bisogna cercare anche di avere di che vivere e cercare di vivere anche meglio possibile. Gazziano, il salvataggio di Banca Etruria, di Banca delle Marche della Cassa di Risparmi di Ferrari e di quella di Chieti a cui lei faceva un rapido cenno poco fa quale insegnamento fornisce ai risparmiatori? Se ne fornisce uno ovviamente. Purtroppo fornisce un avviso ai naviganti e ai risparmiatori di alzare il livello di allerta sicuramente su quello che riguarda la gestione dei propri risparmi e la gestione dei propri risparmi anche nei confronti degli intermediari siamo vissuti per decenni in un mondo in cui le banche erano sicure e ci si poteva affidare di quello che veniva venduto allo sportello gli ultimi casi, questi ma se poi vogliamo allargare anche l'analisi a diverse banche che hanno venduto in molte regioni italiane le azioni dei propri istituti e hanno visto in questi ultimi anni vedere svalutazioni anche del 70-80% Facciamo due nomi a caso i più famosi sono sicuramente Veneto Banca e Vicenza che sono casi che già alcuni anni fa denunciavamo eclatanti di valutazioni siderali completamente slegate dalle realtà dimostrano che il risparmiatore deve applicare anche qui la vecchia saggezza popolare all'oste non bisognerebbe chiedere se il proprio vino è buono è un detto popolare, purtroppo questo detto vale anche nel campo del risparmio Eppure, come dire, detto popolare per detto popolare, non mettere tutte le uova nello stesso paniere Esatto, purtroppo nel campo del risparmio, e bene insegna la scuola di Marco Liera esiste da parte di molti risparmiatori italiani la tendenza a delegare e a non interessarsi invece è un argomento complesso che cerchiamo di affrontare anche nel nostro blog Money Report occorrerebbe per evitare situazioni di questo tipo e sempre più con l'entrata del bail-in come si suol dire aumenterà il risparmiatori cercare di avere una seconda e anche una terza opinione non fidarsi allo sportello perché indubbiamente non è facile capire questi prodotti ma indubbio che occorra avere un livello di analisi maggiore affidandosi a consulenti indipendenti o anche sentire gli operatori del settore sono moltissimi bravissimi promotori finanziari Tanto oggi con internet peraltro le opinioni si possono è possibile accedere in maniera facile le opinioni poi parafrasando visto che ce l'abbiamo qui Marco Liera che come dire è uomo di grande saggezza, non popolare ma di grande saggezza quando dice che sicuramente non è così eccitante occuparsi dei propri risparmi come può esserlo scegliere la macchina o una casa o piuttosto per una signora magari pensare a un acquisto di vestiti però io dico sempre per fare tutte queste cose poi bisogna avere dei risparmi quindi è meglio prima occuparsene anche se qualche volta non è così exciting come dicono gli inglesi per poter poi fare e permettersi delle cose decisamente A Piazza Affari invece ci si aspettava forse qualcosa di più visto l'andamento di questo 2015 che ormai ha poco meno di un mese come dire si prospetta brillantissimo per la nostra borsa dal settore bancario Gazziano prima diceva che nonostante il rialzo dell'indice è ancora sotto rispetto ai massimi di circa il 16% ma qual è realmente lo stato di salute degli istituti di credito del nostro paese? Mi ha colpito molto questa settimana un'acquisizione messa a segno da Mediobanca in realtà da Chebanca che ha acquisito la rete di sportelli di Barclays e ha acquisito una massa di sportelli di un centinaio di sportelli quasi 6 miliardi di raccolta quasi oltre 2 miliardi nel risparmio gestito la cosa molto interessante che dà da riflettere è che in realtà per fare questa operazione da parte di un management come quello di Chebanca e di Mediobanca sicuramente molto in gamba non solo non hanno pagato nulla ma addirittura hanno ricevuto una dotazione di 2-300 milioni di euro per rilevare questa rete Gazziano è decisamente uno dei manager bancari più brillanti che ci siano in circolazione e questo però dà anche l'idea di come il settore bancario non si trova ad affrontare in questo momento un momento molto felice e per questo motivo come ho citato all'inizio credo che la statua di salute del settore bancario oggi veda più le minacce che le opportunità e questo lo vediamo sia dal punto di vista borsistico sia andando a esaminare i bilanci delle banche settimana prossima sul blog Money Report di Soldi Expert pubblicheremo una serie di articoli una ricerca che abbiamo fatto dove quello che balza all'occhio è sicuramente il peso delle sofferenze che c'è nei bilanci bancari italiani sono circa fra sofferenze e crediti deteriorati parliamo di 350 miliardi di euro cioè i banchieri che si vestono bene ottengono dei compensi eccezionali in realtà quasi oltre il 20-25% dei crediti che hanno erogato in questi anni in realtà sono del pessimo credito e questa è una zavorra molto forte nel settore che si trova ad affrontare anche dei processi di digitalizzazione e quindi è un settore che in questo momento va visto con grande attenzione e dove il risparmiatore deve stare molto attento e anche questa settimana abbiamo visto due banche come MPS e Carigia andare ai nuovi minimi dell'ultimo periodo grazie a tutti grazie a tutti